...che sono venuti ad ascoltare le telefonate, telefonate in viva voce, stiamo facendo le varie chiamate. Ringraziamo queste brave persone, preghiamo, preghiamo per loro, anche la giornata oggi è bella. È una bella giornata, vero Jean Belém? Sì, è vero. Grazie a Dio. E quindi proseguiamo a fare le nostre telefonate in viva voce. E vediamo quello che il Signore ha preparato per noi. E grazie a Dio.